Bentornati sul mio canale di gaming, oggi video sulla modalità Rush di EAFC25 insieme a Zano, Gabbo e Justron, cioè il pigiama sotto Prima di iniziare ovviamente lasciatemi un like e un commento, nei commenti fatemi sapere se volete degli episodi speciali con qualche ospite speciale Chi vorreste vedere su questa modalità e soprattutto vi piacerebbero degli episodi personalizzati in cui ci andiamo a personalizzare i nostri fottuti personaggi Fatemelo ovviamente sapere nei commenti, lasciate un like e arriviamo a 5000 like se volete l'episodio 2 del Rush, pazzo, malato, fuori di testa Detto questo vi lascio al video, ciao Ho gli avversari, è italiani ragazzi No, sono italiani Questi tryharderanno come le madonne Ragazzi non ho mai perso una prima palla comunque Regolare, tranquillo In questa partita non ho mai perso una prima palla Easy, fatto, e go E io lo segno subito, così Senza problemi Easy Senza problemi Un po' di spam Che fa? Ma hai dato un cazzotto? Vincenzo Vincenzo Occhio che adesso di skill Bello Purtroppo la velocità nel girarsi Madonna che giocatore Che finta, incredibile Che giocatore, porca madosca Eeeh, mani di burro Eccola lì, bravo Minchia, tre rossi, raga E tu, no Altruismo, treddo, altruismo Non posso far tutto Dimmelo Le hai fatta una velocità insensata Bella palla Madonna che squadra Ma cazzo champagne questo Eeeh, bello Lo faccio da lì di potenza Mamma mia Quanto storia di preciso Stavo in tribuna Che capoccia a triangolo Nooo, gamba di squallor Mamma mia Ma che ha fatto il portiere, raga Punizione Non è successo nulla Non può essere neanche munito il portiere Eeeh Ma ma è questo blu 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 Ammetto che ho voluto Grazie Ero convinto che il mio Mino Riuscisse a coprire la palla Con L2 Ti spammò ben fatto Ma questi sono delle pepe Non potevamo perdere contro Fabio e Vincenzo Raga Sono dei tipo nomi da NPC Vabbè Lo possiamo fare adesso al volo Così almeno prendiamo Quel doppio vantaggio elegante Buono dai Ottimo dai 3 ad 1 Buono Non so perché l'ha alzata Lo so invece E allora E allora che cazzo stai a fare anche te però eh E beh Ho solo tirato io Con il pallonetto da dentro la porta Mi sa che mi hai scivuto il dito Vale quanto il mio errore quello eh Portiere Il nostro è un assassino Non è successo niente Non è successo niente Anzi andiamo palla E andiamo a far gol Vai tre rossi Daniele Niente Qui corto Te li fai tutti Non ho mai visto una persona smarca così tante avversari in una volta sola E' tuo Bene E' fare il gioco Buono Buono Fai go Frate Però Ragazzi cosa cazzo Non sapevo come le valmi Fuori gioco Fuori gioco Io non giuro Ho detto ma tira 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 Che sveglia comunque Ho detto comunque se te mani un altro coso E denunciamo secondo me Ho capito frate Uno Cioè Vai bello E' fantastico Guarda che Guarda che c'è Bislu Che vuole un attimo uscire dai suoi comfort E' tuo Dove cazzo va Bislu Sì fuori gioco No no è regolare Ragazzi 2 a 1 dai su eh Ma che è quello che è partito Guardi occhio Chi è? E' vero C'è l'ennesimo Ah nostra Esci uno esci raga Nooo Ma è Bislungo con la spalla Toccalo Non è vero L'ho toccato No No Dai ragazzi ma cos'è sta Madonna Doombois Ragazzi Via 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 ripartire Vabbè sì il portiere non sta bene Non la prendo ragazzi No è go Non la prendo ragazzi No è al 35 secondi No la McGregor Walk Sì Bombalo Madonna ma è attualta mentre tiravo 4 Angolo Vabbè 3 secondi Aspetta Ma proviamolo Qua sul primo Go Bislungo Eh ragazzi è il golden goal E occhio Non ho mai perso una prima palla della mia vita Aia Fai go Ok Facciamo i fucilati C'è i piedi fucilati Non posso fare niente Stoppala No me la toglieva Sì che la controlli Bellissima Bravo 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 Vado Vai La gioco Ah Eh Carti Chiama il fallo Chiama il fallo No vabbè Non la faccio Oppure lo bombo Non è vero Non si può segnare Banderina cos'è No è una palesemente calcio d'angolo questa No No Tornare Ma non può partire così raga No Vincenzo No L'ha passata la scena Sì ragazzi Non da una rimessa nostra davanti Dai io non ci voglio credere Ma questa è proprio un'ingiustezza Come? Un'ingiustezza Eh Classico L'abbiamo trollata Abbiamo fatto troppi coglioni Io per primo Grande classico Ci rifaremo nel prossimo match Moralizzati i fracichi comunque Eh Sì sì Ti fa subito gol Non ho mai sbagliato una prima palla Mai nella tua vita Non è questo il giorno T'ho detto È proprio Uh Uh È buona No quello si chiama J.R regà È il tuo socio zio No è J.R che skillano Non è vero J.R contro J.R Sono andati in fuorigioco Non stavamo in fuorigioco Tira il volo Ma che meraviglia Mamma mia Uh Mamma mia Ragazzi Spicco Ma questo quanto core ho Ma che bello Ma che bello Ma che è la ruba Fatissimo Carti E' tuo E' tuo Da Sono una sega Bravo Carti si ha rotto il cazzo Bravo Ha battuto come al solito Siamo tutti Siete in tre Cioè Aia Il gol della merda C'è il gol Coglioni Sì che fa il fenomeno Aspetta Coglione È una sega Gli lo ridà Mamma mia Ragazzi Dai fallo ancora J.R Di un altro pallone Facci fare un altro gol Dai Facci fare un altro gol Che numero Bravo Fagli vedere chi è il vero J.R Qui Hanno quintato tutti È perché quello è un coglione Ha fatto quintare tutti Codo Che farei un torello Soltanto con lui al centro Ecco torello vai Con lui che corre Che prova a prendere Bullizzata Ragazzi Questo è un messaggio Tremendo Comunque Un messaggio Che non si può mandare Per su un video di YouTube Come no Sì ha fatto il pirla filare S'ha fatto quintare Tutta la sua stessa squadra Proprio in cerchio Proprio in cerchio Com'è il caso Ha rinunciato Coglione Ha mordato Regà Spingilo Tocca pure Spingilo Ci avevo 120 anni in quattro Regà Questo ce ne avrà 13 Guardaci Ti giuro Lo vorrei vedere A GIR Questo Fai 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 Perché ti ammazza Eccolo qui La palla è sua No Che fa Tutti e quattro Tutti e quattro Ragazzi Tutti e quattro Massacalo Massacalo Gran vittoria Dredone Per il video Secondo me basta Non ho mai sbagliato Una prima palla E' tua E' tua Allora vai dai E' tua Ho detto Ma le perdiamo sempre poi Eh io la prendo ma poi non la tengo Mi è bislungo Madonna come sei bello E' go E' go E' go Hai visto? Ma che stanno a fare? Non è vero ma è passato Bravamo Mi è bislungo Interventino tattico Sì Ma che parada ha fatto? Devo mettere la maglietta con il JR dietro Che ha tenuto un po' nei mar almeno Nooo Mazza che m'ha fatto eh No Ma anche muro Ma ha fatto muro pure l'omino Ma niente ogni volta che mi rubano il pallone sotto le gambe Per permanent Bello Bravo bislungo Porco due sembri Irle Ho zerenato Che palletta Hai già Non ti girato il mio Ma il mio sta partita è rincoglionito ragazzi Aiuto Bravissimo Togliel'uomo Che giocatore Che bello Quella divisione tra in arrivo Dredone Sì sì Impazzito Dredone Impazzito È impazzitissimo No Oddio Oddio Mollamica Che gola strano Sì Fate voi allora Va ancora sotto la tevere A esultare Belli No era più lunga Ho capito l'idea Non c'erano mai queste cose O chi è? Merda Allora a quanto pare si invece sai Bagliamo noi con l'L1 triangolo oppure bo O usano quadrato Magari crossano Nah già Secondo me Questi sono cross Non possono essere l'L1 triangolo regà Impossibile dai Ma chi è fai due golle così in un secondo Sta rosica Bravo Ma qua abbiamo Dredone Che giocatore Dredone Va ancora lì Dalla nonna come Florenzi Cazzo stiamo indicando Ma che ne so Sono questi che mi ci piacciono ragazzi Ecco che parte Guarda che tutti azzeccano incredibile Occhio al centro Occhio al centro Mazzo Non tira non tira mai Sono pronto a ripartire Mi vedete mi vedete Sono qua a fare lo sciacal Niente impossibile Forse era meglio stai in area difende Eh ho capito C'era già Zano lì comunque Abbastanza coperti 4 a 4 in un minuto Occhio a quello che parte come un pazzo Il spazzo dice 12 a 11 Desta partita Prende realmente go Ma guarda che prende Sì Bravo E' tuo E questo è il 5 a 4 amico mio Che mammeata Tranquilli ragazzi Ho guardato in faccia Ho visto il movimento del ginocchio Che stava andando dall'altra parte Fuori giù E' nostra E' nostra Follia Questa era una Questa era una spazzata via comunque Ma sei troppo elegante per spazzanze Vero Madonna Mi fa che palletta Di intanto tenesce questi passaggi Un po' ambigui No non vanno Bis lungo Mamma mia bis lungo Come la gestisce Olle No andate No Dai bis lungo Partito Oddio Oddio Che sfiga Ma no Siamo scoperti ragazzi La partita è intensa Ci stiamo giocando Tipo la top 2 mondiale Bella palla È regolare È regolare Lo fai? Non è vero Io can Madonna Stiamo tutti qua Che brutta situazione Che bruttissima situazione Stiamo tutti avanti Bis lungo ci pensa Bis lungo Bis lungo ci pensa lui Non esagerare Che dura bis lungo Salvo Occhio chiamarla lì Occhio chiamarla lì Occhio chiamarla lì Occhio chiamarla lì Lentissimo giuro Ragazzi Madonna che impicci Sti rimballi Chiamatela lì Bello No È buona È buona È buono È buono Bellissimo Tre secondi Non può fare nulla Via via Secondi Mamma mia Se ne vuoi fare un altro Ce sto Mi sto filmando Anch'io vai 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 Mi sono lungo 9 e 2 ragazzi E fu così Che Zano staccò Alle 7 E fu così Che tutto il pomeriggio Ci ho dato Una vela banca Impossibile Non ho mai sbagliato Una prima palla ragazzi Non hai mai perso Un calcio all'inizio Te l'ho detto E go Oddio questa volta Oddio Doppio blu È doppio blu Ma manco giallo Ma ci hanno l'immunità Early game Oddio Porca Non ci credo Ma non ci credo Bislungo Che giocatore Da fermo Da fermo Ha piegato le mani Al portiere Bislungo Frate Tipo Seedorf Mamma mia Che aperta Che bello Bis Porca Sì Mamma mia Bislungo Ho dovuto scaldare Per i video di Ron Ragazzi Ce l'hai dritto Cioè Sì sì Ce l'ho dritto Perché c'era la tipa Di fianco È finita Era per quello Bravissima Sacrata Seconde È 2,3,2 No Da prima che ero dentro Preoccupate Ma che stop era? Ma Sì Era Ho tirato di prima Ovviamente Ma non ha voluto farlo Uno strano stop Occhio No Le caciole Le caciole No come le caciole No sì Ci ha distratto Per nome Mi ha distratto troppo Ma come le caciole Dai dai Lo rifamo subito Dai Easy Ma che era Che sarà Subito Porca droga Le caciole c'è un po' Distratto Se tu lo copri di lungo Io lo copro dietro Non posso tornare indietro Mamma mia Che bellissima Che visione di gioco C'è Bravo Mamma mia Ma che assist bro L'assist di bis lungo Non l'ho mai visti fa nessuno Strano Madonna Che fanno Lo provi Eh no Volevo rubicare Era un bel cross normale Pensando Eh T'ha lasciato Questo mostro Ha lasciato sul posto La troia Boh Sì Ahia La troia Ha tirato una bella calciata Te l'ho vista Faccio greenwood No Beh io faccio pistoli Fuori gioco Fuori gioco Fai pistoli Stiamo esagerando sempre di più Con gli esempi Sì ragazzi Perché Bravo Eh fuori gioco forse Easy tranquillo È matto È un momento di Robazzo Era per Già Non è la vipa È la pezzata È la pezzata È questa non sbaglierà mai Mai Io Ho chiudo Occio gabba Perderla lì Occio bravissimi Ci sono Lo fai Lo fai Non è mai sbagliato da lì Easy Hai ragione Dredone Mai sbagliato Quando mi dici così Attivi automaticamente Il time head verde È vero Guarda che devo fare tutte le partite così Bravissimi Anche il tre rossi ancora Che l'ultimate team Bravissimo Bravissimo Che freddezza Sottoporta Ma che fa Ma che ne so Si è incagliato È mia Non è più mia Adesso è mia Puoi andare da solo Vai da solo No no Vedo Zanone Bravissimi Mazza Che tale Ragazzi C'era un 7 Non risparmia No Si è incastrato Al centro Doveccio Bello Doveccia Mamma mia La preva al bolo Ma che è Shaolin Ti ammazzo Ti ammazzo No no sta buona Non fa Greenwood Non serve a fare Greenwood Faccio fuori Ma non tira fuori i cartellini Non era mai Niente Ah ero io Ho spammato No Bislu Bislu Ho premuto un tasto Questa non sbaglia un tiro Che vuole Mi vuole venire a toccare Ma io da un destro Glielo Porca Non mi sarà Cazzo È morto È morto È morto È morto Ho tenuto tutti in gioco Non ho visto cosa è successo Ma contro il palo Era finito Sì Si è incastrato sul palo Minchia Con quei cappelloni Che succede? Eh boh Infatti Metà campo Animazione Strambe Siamo tutti avanti Mamma mia Che giocatore Lo fai di nuovo? Il tuo momento Ma non mi slungo Che giocatore Il giocatore più elegante Di questo secolo 2-3-2 Lo scartano Ci ha messo 22 minuti Si è fatto un caffè Poi ha tirato 10 stecche alla fine Eh alla fine Sembrava equilibrata Ma poi abbiamo preso il largo Mamma che gioco? Oddio No 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 È partita a mille All'euro Possiamo permettercelo Raga Possiamo permettercelo Mamma mia Ragazzi Cioè Il modo con cui escono i portieri È una roba Insensata Assurda Facciamo terminare qui Questa nostra straordinaria avventura Io ringrazio i ragazzi I prossimi video Io vorrei fare Tipo che ne so Sfera e basta Mannano Facciamo I tutorial Tipo che ne so Della faccia di Ronaldo Mannano Tutti nani Quattro Ronaldinani Sul canale di Ron È uscito Uscirà un altro video Ovviamente Sul canale di Gabbo Non credo Scuolizzano Neanche Ma comunque I link in descrizione Lì avete lo stesso Grazie mille Grazie Pazzesco Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao